Quindi per fare i fiori dell'albero io mi ero un po' messa avanti perché sennò non riuscivo a farvelo perché dobbiamo lasciare la tempera ad asciugare un pochino. Quindi ho preso il pennello a lingua di gatto, anche questo lo trovate su www.bimagenta.it, misura 2, vedete che ha questa forma particolare. Che tempere ho preso? Ho preso la tempera magenta e la tempera bianca, va bene? Quindi che cosa faccio? Bagno il pennello, aspettate che la tempera si è seccata perché ovviamente l'ho preparato prima, quindi ne prendiamo ancora un pochino. Dopodiché prendo appunto il magenta e il bianco e vado a creare una nuance più chiara, in questo modo, ok? Così. Con la nuance più chiara vado lungo i rami, quindi partiamo dal basso, così. E do delle tipo delle padellate, no? Non so, in questo modo. Qua in basso ci vado invece di punta, così, in modo da creare proprio delle come qua, va bene? Anche in questo caso, salgo proprio sopra i rami, eh, non è che mi creo problemi di sorta. Ok. Mi raccomando, lasciate sempre delle parti più scure, perché dobbiamo creare ovviamente il, come si dice, l'effetto di profondità. Quindi, così, ok, inumidisco leggero, leggero, e vado sopra. Una volta fatto questo, prendo praticamente solo bianco, in questo modo, ok, e vado ad aumentare, vedete? L'effetto, così. Vedete che non mi sto creando molti problemi, anche se sto andando sopra il verde, eccetera, perché comunque le tempere sono assolutamente coprenti. Quindi faccio un lavoro di questo tipo, ok? Mettiamoci qua. E man mano andate avanti, continuate il vostro lavoro. Così, ok? E via discorrendo, ora non ve lo faccio tutto, perché sennò mi state a guardare solo che faccio delle, delle pennellate, eh. Vi, vi faccio ancora un attimino lì in alto e poi mi, mi interrompo, va bene? Sennò poi vi annoiate. Così. Mi è venuta la voce, e basta. E poi andate avanti, mamma, a finire tutto il, tutto il, l'albero. Non mi sembra nulla di particolarmente complicato, ok? Quindi, che cosa abbiamo utilizzato? Abbiamo utilizzato il pennello a punta piatta angolare, aspettate che ve lo pulisco e ve lo faccio vedere, misura 2. Il pennello a lingua di gatto, anch'esso, misura 2. E il pennello a ventaglio, oltre ovviamente alle nostre tempere alimentari e pasta di zucchero. Vi ricordo che trovate tutto su www.bimagenta.it Adesso vi giro, così, vi faccio vedere, prima quello che abbiamo fatto, la prima parte, ok? Eccola qua. Guardate che carina. Bellissima. L'erba fatta così mi piace da matti. E poi vi ho fatto vedere come fare anche l'albero, ok? Tutto con tempere alimentari. Quindi, il nostro canale YouTube per seguire tutte le dirette, anche quelle vecchie, che vi stiamo pubblicando giornalmente. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete, condividete, condividete i video se vi sono piaciuti. Mi raccomando, pollicione in su. Io direi che vi auguro un buon weekend. Spero che la, tra virgolette, lezione di oggi vi sia piaciuta, che l'abbiate trovata interessante. E ci vediamo, direi, lunedì alle 2, sempre qua. Io vi auguro un super bacione. Vi ricordo www.bimagenta.it Ciao, buona giornata! Ciao, buona giornata! Ciao! Grazie.